Non ci si emozionava da tempo al palazzetto di concilio di Agropoli con un pubblico al limite della capienza consentita dalle restrizioni covid che ha fatto sentire il calore e l'affetto per la società New Basket Agropoli. I tamburi, i cori, gli applausi hanno alzato il ritmo di una gara terminata in parità contro Forio di Ischia ma con la consapevolezza che ha vinto soprattutto lo sport, quello sano, quello praticato col cuore e con l'amicizia di due compagini equilibrate e amiche dimostrando che anche le gare importanti si possono disputare nel pieno rispetto dell'avversario. Onore ai ragazzi di Forio, professionali e correttissimi, una squadra costruita per vincere il campionato, orgoglio per i ragazzi del presidente Angelo Farese e di coach Franco Lepre che sono riusciti a regalare un sogno portando la città di Agropoli in semifinale oltre tutte le previsioni, simbolo della giornata di domenica 6 gennaio, la maglietta dei ringraziamenti a chi sostiene la New Basket Agropoli. Forio parte fortissimo nel primo quarto sbilanciando i padroni di casa, portandosi sopra di nove punti e costringendo coach Lepre a cambiare schema e riuscire a limitare i danni. Il primo quarto termina 21-16 per gli ospiti. La New Basket si riorganizza e nonostante i ritmi altissimi di una semifinale dove la tensione e l'inesperienza può fare brutti scherzi, i ragazzi di Agropoli tirano fuori il carattere chiudendo il secondo quarto in vantaggio. 37-34 si legge sul tabellone. Nel terzo quarto persiste l'equilibrio delle compagini campane ma c'è da sottolineare l'infortunio di uno dei due arbitri che a circa due minuti dalla fine, mentre la New Basket era in ascesa con ritmo e agonismo in vantaggio 49-47, ha fermato il gioco per oltre 15 minuti permettendo a Forio di recuperare fiato, apparsa in affanno rispetto ai padroni di casa e riuscendo a ribaltare il risultato finale a suo favore, 52-49. Il quarto finale si rivela povero di canestri, 67-67, a dimostrazione di una partita tiratissima e molto tattica, con la consapevolezza però che la squadra più forte della categoria ad Agropoli non è passata. Ora testa a mercoledì, alle 16.30 probabilmente ad Ischia, chi vince conquista il posto in finale.